Dopo la costituzione del gruppo di noi moderati nella maggioranza di centrodestra al Consiglio Comunale dell'Aquila, in analogia con la coalizione che sostiene il Governo nazionale, il capogruppo parlamentare Maurizio Lupi oggi è stato all'Aquila per tenere a battesimo il gruppo che vede come capogruppo in Consiglio, Daniele D'Angelo. Noi moderati, ha spiegato Lupi, ha un programma serio e preciso e si lavora già per le prossime regionali. Sì, mi fa molto piacere presentare il nostro gruppo consigliare anche qui all'Aquila, a sostegno del lavoro e dell'ottimo lavoro che il Sindaco sta facendo. Dall'Aquila, come in tutta Italia, ci stiamo preparando a rafforzare e rilanciare la proposta di noi moderati, indispensabile come pilastro per un centrodestra che si candida a governare. Non solo continua a governare l'Aquila, continua a governare l'Italia, ma in tutte le altre regioni. E credo che sia un punto di partenza importante. Poi ci prepariamo al nostro congresso nazionale il 2021 e il dibattito sulla proposta di un centro forte e rafforzato nel centrodestra è un dibattito a cui noi vogliamo dare il nostro contributo fondamentale, partendo anche dall'Aquila come segno della nostra presenza e del buon lavoro che, insieme con Giovanni Totti e con tutti gli altri amici che hanno aderito alla proposta di noi moderati, continuiamo a fare. Il consigliere D'Angelo ha spiegato che si tratta di un percorso naturale, che lui si mette a disposizione anche per le politiche. Assolutamente sì, diciamo che è naturale, questo percorso è stato un percorso naturale, dopo che ci ha visti nelle elezioni politiche, me stesso candidato capolista sulla lista noi moderati, abbiamo proseguito su questa intenzione avendo dei ruoli di governo e comunque affermando qui in città un pieno sostegno e collaborazione con il sindaco Pierluigi Biondi come è nell'ambito nazionale di un centrodestra unito e che ha voglia di lavorare e guardare avanti.